è nato un tigre nei laboratori esso, è il super carburante esso extra nuova formula ma cos'è? è un tigre grazie è il super carburante esso extra nuova formula, è proprio un tigre e cosa fa? impedisce che si formino depositi nel carburatore, migliora l'efficienza delle candele con la sua eccezionale purezza rende più brillante il motore, esso extra nuova formula è proprio un tigre nel motore partenza immediata, migliore accelerazione, con esso extra nuova formula metti un tigre nel motore